Ciao a tutti da Cristian Tigenza, l'auditore del blog, eccomi qui con Argheta, Vanessa e Fabiana. Abbiamo lei che è l'editrice, loro che sono l'escrittrice e stanno presentando Convivenza Leggera e Matrimonio D'Affari di Vanessa Pescera che è lei e hanno un saluto per YouTube, Facebook, Twitter, MySpace e tutti i social network Ricordatevi, Convivenza Leggera, Matrimonio D'Affari, Vanessa Pescera Vi salutiamo e a tutti quanti un saluto particolare Ciao Ciao Cristian Tigenza, Argheta, Vanessa e Fabiana Ciao